Abbiamo qui con noi Edmondo Berselli, noi siamo una tv di strada, una tele street, ci occupiamo principalmente dei nostri argomenti riguardo alla libertà di informazione, quindi volevamo chiedere a Edmondo cosa pensa brevemente dello stato dell'informazione televisiva in Italia in questo momento. Io sono favorevole a tutte le esperienze che moltiplicano i centri di informazione perché credo che oggi si possa parlare non tanto di libertà quanto di pluralismo, per fare il pluralismo ci vogliono molti soggetti, in questo momento in Italia ce ne sono pochi, quindi qualsiasi esperienza che nasce dal basso, dall'alto, di fianco, a destra o a sinistra, è benvenuta se porta una voce in più. Poi una domanda che si lega alla prima però un po' da dietro, come mai lei scrive per Mondadori? Sì, mi chiedono tutti, scrivo per Mondadori per sottrargli un po' di soldi, perché c'entra, ci scrive per Mondadori, ci scrive D'Alema, ci scrive La Vedova D'Antona, è il maggiore editor italiano, d'altra parte se uno vuole evitare Berlusconi non si sa come fare perché c'è nelle assicurazioni, c'è nel cinema, c'è nella distribuzione, c'è nei giornali, c'è al governo a un certo punto che si sposti lui, non so che cosa dire. Cosa pensa Telecitofono che sta cercando di vendersi a Berlusconi, siamo noi Telecitofono e siamo in trattativa con Berlusconi perché vogliamo vendersi. Fatevi pagare bene perché è l'unica possibilità, bisogna stare attenti con Berlusconi, bisogna stare attenti a non dargli i soldi perché quando i poveri danno i soldi ai ricchi il diavolo balla, è un proverbio non molto noto ma molto adeguato. Grazie, dono. Grazie. Grazie.